E' iniziata l'avventura olimpionica di Carmine Tommasone, Mr. Wolf è pronto a portare in alto il nome dell'Irpinia anche a Rio, a rappresentare la nazionale italiana e provare a tornare a casa con un altro importante titolo, un sogno che si realizza quello di Carmine e un altro che potrebbe essere realizzato. Il pugile di contrada è sbarcato in Brasile, adesso attende il sorteggio che ci sarà tra il 4 ed il 5, al quale termine conoscerà il suo avversario. Mentre il 6, 4 ore prima di salire sul ring, svolgerà la cerimonia dei pesi. Una prova fondamentale per Carmine, forse la più importante della sua carriera. La finestra nelle Olimpiadi può rappresentare un ulteriore step in un percorso che nonostante un brutto infortunio ha permesso di collezionare numerosi successi e di essere apprezzato e sannato da un popolo, quell'Irpino, che non gli ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Tommasone rappresenterà l'Italia con campioni del calibro di Imanuele Cappai, Valentino Manfredonia, Vincenzo Manciacapre, Clemente Russo e Irma Testa. Ma ci sarà un altro pezzo di Irpinia con lui, Guido Vianello, 22enne boxer e nato a Roma, ma è originario di Ariane Irpino.